Il programma è presentato da Alcat Test Italia, il test sulle intolleranze alimentari, www.alcat.it Un saluto ai nostri telespettatori, ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione sportiva in gran parte dedicata alla Serie A con il turno infrasettimanale in questa edizione. Partiamo dalla gara giocata ieri sera, l'anticipo traudinese Inter ha vinto dei nerozzurri per 2-1 al termine di una partita decisamente strana dove l'Inter non ha giocato male anche se poi ha avuto un doppio vantaggio numerico, infatti l'udinese ha terminato la gara in 9 uomini ma l'Inter non ha saputo gestire il risultato e l'udinese nel finale ha addirittura avvicinato un clamoroso pareggio. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dell'udinese Andrea Stramaccioni che fa i complimenti ai suoi per la prestazione ma parla anche dei tanti errori arbitrali a danno della sua squadra a Benutieri. Io voglio che vadano a casa questa sera orgogliosi della loro prestazione anche se in Serie A è strano, no? Per dirlo dopo una sconfitta però io credo che in queste due partite l'udinese abbia dato un segnale forte ma non solo da un punto di vista sicuramente, da un punto di vista anche del cuore però anche da un punto di vista del non mollare e anche dell'organizzazione stessa perché sullo 0-0 contro questi Inter io già gli avevo lanciato un segnale levando un centrocampista lasciando due punte praticamente per tutta la partita finché siamo rimasti in 10 poi ovviamente come ha scherzato Totò quando è stato sostituito ha detto che in 10 ancora ancora ce la facevo ma in 9 era più complicato correre con due attaccanti e poi ci siamo tenuti la zampata finale con la seconda punta negli ultimi 10 minuti e quindi credo che ai ragazzi vada fatto un grande applauso e un complimento perché ripeto, quest'Inter ha una qualità impressionante dal centrocampo in su forse insieme alla Juventus la squadra che mi ha impressionato di più come qualità dei singoli quindi questa cosa vale doppio adesso giriamo pagina ma continuiamo su questa strada perché secondo me è la strada giusta è la strada che dobbiamo tenere per costruire qualcosa di importante per l'anno prossimo penso che sia difficilissimo arbitrare sbaglio io, sbagliano i calciatori e può capitare anche un arbitro di sbagliare è stata una partita dai toni agonistici corretta ma dai toni agonistici elevatissimi con molte entrate decise quindi io credo che in questo siamo stati un po' sfortunati perché gli episodi sono stati a nostro sfavore sono stati episodi sfortunati il rigore non c'era ma magari a velocità normale può ingannare Furioso invece Roberto Mancini per aver gestito malissimo la partita nel finale l'Udinese è andata come detto vicina al pareggio non si può smettere di giocare cinque giocatori dopo il vantaggio di Podoschi non hanno più giocato a calcio le parole del tecnico Iesino passiamo ora alle gare di oggi con la grande classica tra Juventus e Fiorentina Juventus che potrebbe laurearsi campione d'Italia in caso di vittoria e qualora invece la Lazio non riuscisse a battere nella sua partita il Parma andiamo quindi ad ascoltare le parole di Massimiliano Allegri nel pre-partita nel calcio può succedere anche questo io credo che le due prestazioni tra Parma e quella di Torino domenica siano due prestazioni diverse il Cortellino è stata una bella prestazione credo che sia stata una delle migliori nelle ultime fatte soprattutto come occasioni create abbiamo tirato tantissimo in porta abbiamo preso tre pali quindi credo che il risultato non rispecchia la prestazione del campo anche se nella fase difensiva abbiamo sbagliato tre volte e abbiamo subito due gol siamo ancora concentrati dobbiamo essere ancora concentrati sul campionato perché mancano ancora quattro punti alla matematica e quindi bisogna cercare di farli e poi dopo continuare a lavorare nel migliore dei modi perché oltre alla Champions che sono le due semifinali che saranno sicuramente le due partite più importanti per il finale di stagione ma abbiamo anche una finale Coppa Italia da giocare quindi bisogna continuare a lavorare in un certo modo con la testa giusta che dopo è quella che fa la differenza innanzitutto dopo la partita del Cortellino come sempre ho visto il positivo il lato positivo perché abbiamo recuperato due punti sulla Lazio e poi dopo per quanto riguarda dai giocatori Cristiano Ronaldo io credo che i giocatori stiano pensando e stiamo pensando tutti alla partita di domani tanto vanno giocate una per volta non possiamo giocare tutti insieme con la Corriere al Madrid non è che si gioca dopo domani o domani ma giocata il 5 di maggio e quindi la cosa che dobbiamo fare noi è quella di prepararsi al meglio per la partita di domani sera anche perché lavorare con le sconfitte sulle spalle sicuramente è più difficile e poi ti toglie un po' di certezze che hai e quindi noi bisogna pensare a questo e soprattutto bisogna cercare ancora di migliorare quello che stiamo facendo quello che abbiamo iniziato a fare dal 16 luglio non è che ora perché siamo arrivati in fondo alla stagione che stiamo lottando su tutti i fronti dobbiamo smettere di lavorare e cercare di non andare a migliorare quelle che sono ancora in questo momento le cose da migliorare questo dunque Massimiliano Allegri con la Juventus che arriva dalla sconfitta nel derby contro il Torino anche la Fiorentina arriva da una sconfitta pesante in attesa interna contro il Cagliari la Viola quindi dovrà vendicare quella partita ma di fatto dovrà vendicare anche la sconfitta pesante avvenuta in casa proprio contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia così la Juve è andata in finale della Coppa Nazionale mentre la Fiorentina è tornata a casa andiamo ad ascoltare proprio il tecnico della Viola Vincenzo Montella Allora abbiamo fatto una pessima partita domenica abbiamo fatto una pessima partita e ce ne assumiamo le responsabilità io per primo ci dispiace però credo che in questo momento la cosa fondamentale per me sia l'equilibrio non permettere a nessuno e a nessuna cosa di minare la nostra dimensione il nostro modo di fare calcio la nostra coesione che in questi anni ci ha contraddistinto come gruppo come metodo di gioco e come valore di gioco anche quindi accettiamo questa sconfitta con grande rabbia e che dobbiamo riportare assolutamente alla prossima partita rispetto al ritiro io non non so cosa vi abbiano raccontato lo sapete che non parlo se non ufficialmente e quindi io credo che la squadra non abbia bisogno di andare in ritiro perché la squadra è coesa perché la squadra è fatta di composta di calciatori super professionisti e quindi per me un ritiro sarebbe stato controproducente per gli stessi motivi sempre abbiamo sempre elogiato il comportamento della squadra e credo che vada fatto anche con equilibrio nelle sconfitte anche talvolta come in questo caso sono dolorose io credo che sia una cosa grave quella che è successo a prescindere se chiuderanno o meno la curva qualcosa dobbiamo fare ma si dice sempre se è spesso retorici conta niente quello che diciamo noi io preferisco giocare sempre con un stadio pieno perché non credo che le persone per bene che ce ne sono tante che seguono il calcio debbano essere penalizzati per pochi idioti saremo arrabbiati tutti e due è importante non perdere l'identità non perdere le convinzioni per quanto mi riguarda però sono segnali che nel nostro calcio soprattutto le energie nervose vengono spese e le pagano tutti la Juve ha conquistato una semifinale di Champions e quindi tanti complimenti vuol dire che è anche una squadra attrezzatissima è abituata da sempre a giocare su certi livelli eppure gli capita di perdere a Parma e gli capita di perdere un derby che sono certo i giocatori non avrebbero voluto perdere anzi avrebbero voluto vincere proprio perché era anche perché era un derby quindi questo significa che che si spendono tante energie e succede anche alle squadre abituate più di noi a giocare a questi livelli e in continuazione quindi quindi mi aspetto una squadra e mi devo appellare alla Fiorentina che sotto il piano del temperamento non deve essere da meno alla Juventus ma non deve essere da meno ai nostri standard e come dicevamo poco fa la gara tra Lazio e Parma potrebbe essere determinante in ottica scudetto per la Juventus qualora i bianconeri battessero la Fiorentina e la Lazio non vincesse contro il Parma sarebbe matematicamente scudetto per la formazione di Massimiliano Allegri allora andiamo ad ascoltare proprio le parole nella prepartita dell'allenatore dei Bianco Celesti Stefano Pioli quando parlo penso di essere abbastanza chiaro io credo che ci stiamo preparando con grande determinazione con grande generosità con grande concentrazione con grande serenità pensando solamente a noi stessi pensando a quello che stiamo facendo in questo campionato pensando al percorso che stiamo portando avanti cercare di crescere e di migliorare ogni partita credo che siamo cresciuti tanto rispetto all'inizio del campionato credo che non ci interesse assolutamente quello che è successo nel passato di stagione questo è un altro campionato un'altra squadra e quindi affrontiamo la prossima partita al massimo al meglio cercando di portare a casa il bottino pieno così come faremo domani sicuramente faremo da qui alla fine dell'anno e poi il 31 maggio tireremo le somme ma io credo che voi in generale si parla parlate spesso di calendari agevoli meno agevoli facili e più difficili non esistono non esistono calendari facili non esistono partite facili non esistono in Italia partite impossibili lo abbiamo dimostrato noi lo hanno dimostrato altre squadre la Juventus ha perso col Parma la Fiorentina l'altro giorno ha perso col Cagliari noi abbiamo pareggiato col Chievo il Chievo aveva vinto a Napoli il Chievo aveva pareggiato già a Roma con la Roma ci aspettano i sconti diretti ma saranno più avanti adesso ci sono altre partite importanti il calendario che tutti voi definite molto difficile a fine stagione ci ha visto con risultati positivi all'andata perché con l'Inter abbiamo giocato bene abbiamo pareggiato potremmo vincere perché con la Sampdoria abbiamo vinto con la Roma abbiamo giocato bene abbiamo pareggiato potremmo vincere con Napoli abbiamo perso ma poi abbiamo vinto in Coppa Italia prima di questa partita e poi c'è la partita di domani c'è la partita di domenica e poi dopo ci toccheranno i sconti diretti che sappiamo che ci sarebbero stati e io ragiono come l'ha detto lei saranno un'opportunità però la partita più importante è quella di domani contro un avversario difficile ci tengo a a portare tutta la mia stima e la considerazione che ho nel lavoro che sta facendo Don Andoni il suo staff e i giocatori in una situazione molto difficile hanno dimostrato grande professionalità grande dignità e quindi complimenti a loro sarà un avversario tosto che sta facendo molto bene perché il valore della squadra sicuramente non è la ultima posizione in classifica e lo stanno dimostrando gli ultimi risultati con molto rispetto con molte determinazioni ci siamo preparati e così vogliamo giocare domani Anche la Sampdoria è chiamata a vendicare la sconfitta pesante ottenuta pochi giorni fa sul campo del Napoli proverà a farlo in casa contro l'Ellas Verona per continuare la rincorsa a un posto europeo ascoltiamo Sinisa Mijailovic La Murio si deve responsabilizzare al di là delle idee lui deve crescere lui ha qualità enormi e ha tanti margini di miglioramento deve crescere molto di testa prima di tutto deve crescere come uomo come persona perché ancora lo vedi anche quando gioca che i centri fragenti gioca come quando si gioca davanti all'oratorio invece è una cosa seria però è un giocatore con le sue caratteristiche che qualità che ha che può fare un gol a ogni partita e speriamo di arrivarci ma ci siamo parlati parliamo spesso perciò vediamo comunque ha anche troppe pause nel suo gioco però vediamo che comunque non ha mai giocato in continuità per diversi motivi e diversi problemi adesso cerchiamo di prenderlo ma comunque sicuramente può fare molto di più e stiamo lavorando su quello poi lui si deve responsabilizzare da solo perché comunque l'abbiamo preso per fare la differenza qualche volta è uscito qualche volta no ma è anche complessibile abbiamo piena fiducia in lui e vediamo che è quello che si riesce a combinare perso il secondo posto in classifica con il terzo a rischio per il Napoli che è subito dietro la Roma sta attraversando un momento non particolarmente felice qualificazione la prossima Champions Liga quindi a rischio Roma che arriva dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter il tecnico francese Rudy Garcia è particolarmente irritato dalle voci e dalle domande anche di alcuni cronisti extra calcistiche ascoltiamolo tutte le decisioni sono mie ok io parlo anche con i miei allenatori ovviamente perché siamo un gruppo ma tutte le decisioni sul gruppo sono miei possiamo frustrare i giocatori possiamo farle dormire nudi durante due notte e a che sirve perché voi prendete un esempio che funziona io posso prendere dieci esempi che funzionano e prima che uno mi fa la domanda per esempio su Sedou Dumbia e questo pseudotifoso che ha filmato il suo riscaldamento dove era durante i 14 minuti dell'intervalo quando ha fatto un riscaldamento Sedou Dumbia come l'aveva chiesto per poter essere pronto dopo quando dico a un giocatore di fermarsi perché entrerà un altro come Manui Turbe è normale che si ferma questo è come dite voi rovistare nella spazzatura allora questo è rovistare nella spazzatura con Garzia si chiude questa edizione del nostro telegiornale sportivo grazie per averci seguito il programma è presentato da Alcat Test Italia il test sulle intolleranze alimentari www.alcat.it 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 Grazie a tutti